e andiamo a presentarvi questi finalisti, finale di con Elio Bissara per il Panthers, poi Padova, team di Ambio Mix Besnac con Andrea Gaffè Leonardo Pizzini per il team di Ambio Mix, Verona e Tommaso Bravi per il team di Ciaio abbiamo poi i gesti statici di Perugia, Tommaso Bianci, Fiori e Andrea Pellizzari per il team di Ambio Mix Creazzo e Davide Battistuta per il 48 R Rivignano Leonardo Moretto, team di Ambio Mix, Libertas, la prima posizione per il team di Ambio Mix di Stato, trecenti di Trecon, Andrea Gaffè per la seconda posizione c'è il numero 358 con Massimo Bravi, il team di Ciaio Maria, Vittoria, PNT per Andrea Gaffè, team di Ambio Mix di Stato